Ci sarà una manifestazione di volontà per quanto concerne alloggi che potranno essere reperiti per l'emergenza abitativa con un bando di 20 giorni. Contestualmente ci saranno le verifiche fatte dagli uffici sociali per vedere coloro i quali hanno i requisiti. Mi sono sembrati disponibili anche i partecipanti al movimento a dire che ovviamente chi ha diritto avrà l'emergenza quindi potrà rientrare, chi non ha diritto comunque non si può mediare sulla legalità quindi andrà fuori.